Un ponte culturale internazionale che celebra in Italia l'arte contemporanea messicana. Accade a Trieste nel 140esimo anniversario dell'apertura delle relazioni diplomatiche tra Italia e Messico. E' il grande progetto MexPro, del quale fa parte la mostra presentata questa mattina alla stampa, che aprirà il pubblico lunedì 14 aprile alle scuderie del Castello di Miramare. Sito particolarmente significativo per quanto riguarda gli storici rapporti tra Trieste e il Messico per la vicenda di Massimiliano d'Austria, che andò a morire oltreoceano dopo essersi costruito un'altra dimora nel cuore di Città del Messico. Costruita con la passione, il rigore e la conoscenza di José Pinto Masal, l'esposizione porta in Italia, attraverso l'opera di 87 artisti, un'ampia testimonianza dell'arte contemporanea messicana, fra pittura e fotografia, dagli anni Ottanta ai giorni nostri. Curata da Maria Campitelli, di fatto da seguito alla grande mostra di artisti del gruppo 78, tenutasi da gennaio a settembre 2013 in Messico. Cuore dell'iniziativa sarà l'installazione 2501 Migrantes, dell'artista prematuramente scomparso Alejandro Santiago, che evoca il dramma eterno della migrazione dei popoli, di cui lo stesso artista si sentiva parte. Quest'estate un popolo di 2501 statue di terracotta sarà installato in Piazza Unità d'Italia, per poi approdare a Venezia.